Emanuele, sei arrivato a due curve dalla fine che probabilmente avresti piegato il volante a pugni perché ti hanno superato dopo una gara e poi invece li hai fregati tutti stavolta. Sì, infatti avevo sbagliato lì ma poi sapevo che non era finita, infatti ho visto che si stavano soppassando, Niklas ha chiuso e io sono riuscito a soppassare tutti e due. Ero molto veloce da solo, infatti vedevo che piano piano mi allontanavo ma poi mi guadagnavo di scia. Ringrazio tutti i miei genitori, il mio meccanico, Salemi per sempre buonissimi motori, Yuri e tutti. E Dindo per il casco, anche Tenchini, devi salutare anche Tenchini che non lo conosci, è padrino, no Tenchini, Dindo, diciamo le cose come stanno prima che mi arriva una querela. Bravo, stiamo scherzando. Grazie.